Sì, è terribile, dicevo fra me e me nella mia stanza. È tutto terribile. L'insalata, la balia, il letterato anziano, l'indimenticabile. Capisci? Tutta la mia vita in genere. Dietro le finestre gemmeva il vento d'autunno. Una lamiera staccata sbatteva. Strisce di pioggia scivolavano lungo i vetri. Dopo la serata con la balia e la chitarra erano successe molte cose, ma così scradevoli, che non ho nemmeno voglia di scriverne. Innanzitutto mi ero precipitato a verificare il romanzo dal punto di vista della sua possibilità di venire accettato. Divenne chiaro che non l'avrebbero accettato. L'anziano aveva perfettamente ragione. Mi pareva che ogni riga del romanzo lo proclamasse. Dopo aver verificato il romanzo, presi i miei ultimi soldi per farne copiare due frammenti e li portai alla redazione di una rivista letteraria. Due settimane dopo i due brani mi furono restituiti. Sull'angolo del manoscritto c'era scritto «Inadatto». Tagliai questo giudizio con le forbicine da unghie e portai quegli stessi brani a un'altra rivista letteraria e dopo due settimane me li vidi restituire con l'identica scritta «Inadatto». Poi il gatto morì. Aveva smesso di mangiare. Si era rifugiato in un angolo e mi agolava riducendomi all'esasperazione. Per tre giorni continuò così. Al quarto lo trovai immobile, su un fianco, nell'angolo. Presi una vanga dal portinaio e seppellì il gatto in un terreno incolto dietro casa. Era rimasto completamente solo sulla terra, ma, confesso, in fondo all'anima me ne rallegrai. Quale oner era diventato per me quel disgraziato animale. Cominciarono allora le piogge autunnali. Represe a farmi male la spalla e anche la gamba sinistra, all'altezza del ginocchio. Il peggio, però, non era questo, ma il fatto che il romanzo fosse cattivo. E se era cattivo, ciò significava che la mia vita stava giungendo al suo termine. Lavorare alla navigazione, per tutta la vita, ma non fatemi ridere. Ogni notte me stavo sdraiato sul letto, con gli occhi spalancati, fissando il buio fitto. E ripetevo, è terribile. Se mi chiedessero cosa ricordo dai tempi in cui lavoravo alla navigazione, risponderei in assoluta buona fede, nulla. Colosce in zaccherate sotto l'attaccapanni, un berretto con lunghissimi paro a orecchie, zuppo d'acqua, sull'attaccapanni, tutto qui. È terribile, ripetevo ascoltando il silenzio notturno lonzarmi nelle orecchie. Le conseguenze dell'insonnia si fecero sentire un paio di settimane più tardi. Andai in tram fino a via Samotecnaia a Sadovaia, dove, in una casa sul cui numero conserverò naturalmente il più rigoroso segreto, viveva un tale che, per il genere delle sue occupazioni, aveva diritto al porto d'armi. In quali circostanze avessimo fatto conoscenza, non ha importanza. Entrando all'alloggio, trovai il mio conoscente coricato sul divano. Mentre lui era in cucina a scaldare il tè su un fornelletto a petrolio, aprì il cassetto sinistro della sua scrivania e vi rubai la browning. Poi mi riempì la pancia di tè e mi diressi a casa. Erano circa le nove di sera. Arrivai a casa, tutto era come sempre. Dalla cucina veniva un odore di montone arrosto. Nel corridoio stagnava l'eterna nebbia, che conoscevo così bene. La lampadina appesa al soffitto, mandava la sua solita luce scialba. Entrai nella mia stanza. La luce sgorgò dall'alto e subito la camera si immerse nel buio. Si era bruciata la lampadina. Quando cominciano i guai, non finiscono più. Ed è giusto così, dissi austeramente. Accesi il fornello a petrolio, che se ne stava posato a terra, in un angolo. Su un foglio di carta scrissi, con la presente comunico che la browning, ho dimenticato il numero, di marca tale, è stata da me rubata Parfum Ivanovich. Aggiunsi il cognome. La via è il numero civico, tutto per Benino. Firmai, mi sdraiai in terra vicino al fornello. Un terrore mortale mi colse. Fa paura morire. Allora mi immaginai il nostro corridoio. La carne di Montone e la nonna Pelageia. Il letterato anziano e la navigazione. Mi divertì all'idea del fracasso che avrebbero fatto sfondando la porta della mia stanza, eccetera. Appoggiai la canna alla tempia. Con il dito incerto tastai il grilletto. In quel momento sentii dal basso dei suoni, che mi erano assai familiari. Un'orchestra cominciò a suonare raucamente, e un tenore nel grammofono si mise a cantare. Mi renderà l'amor, la gioventù, la fe? Oddio, il Faust, pensai. Già, viene proprio al momento giusto. Beh, aspetterò l'entrata di Mephistofele. Per l'ultima volta. Non la sentirò mai più. L'orchestra era scomparsa sotto il pavimento. Ora ricompariva, ma il tenore gridava sempre più forte. Maledico il piacere, la scienza, la preghiera e la fe. Adesso, pensavo. Ma come canta in fretta? Il tenore urlò disperatamente. Poi l'orchestra tuonò, e il dito tremante si appoggiò sul grilletto. E in quel preciso istante un fracasso mi assordò. Il mio cuore sprofondò chissà dove. Mi sembrò che la fiamma del fornello a petrolio balzasse fino al soffitto. E lasciai cadere la pistola. Allora il fracasso si ripetè. Di sotto giunse una grave voce di basso. «Son qui!» Mi voltai. Verso la porta. Stavano bussando alla porta. Imperiosamente e ripetutamente. Cacciai la pistola nella tasca dei pantaloni e gridai senza forza. «Avanti!» La porta si spalancò, ed io, sempre disteso per terra, impietrì dallo spavento. Era lui, senza possibilità di dubbio. Nel buio, sopra di me, apparve un volto dal naso autoritario e dalle sopracciglia marcate. Sarà un gioco di ombre, e mi parve che sotto il mento quadrato sforgesse la punta di una barbetta nera. Il berretto era inclinato spavaldamente sulle ventitré. La piuma, a dire il vero, mancava. In poche parole, davanti a me, si argeva Mephistofele. In quel momento mi accorsi che indossava un soprabito e lucide sopra scarpe alte, e sotto il braccio portava una cartella. È naturale, pensai. Non potrebbe girare per Mosca, nel ventesimo secolo, vestito in altro modo. «Rudolfi», disse allo spirito maligno, con voce di tenore anziché di basso. D'altronde avrebbe potuto anche non presentarsi. L'avevo riconosciuto. Nella mia camera si trovava uno degli uomini più noti del mondo letterario di quel tempo, Ilia Ivanovich Rudolfi, redattore e editore della Patria, l'unica rivista privata esistente. Mi alzai dal pavimento. «Non si potrebbe accendere la luce?» chiese Rudolfi. «Mi dispiace. Non sono in grado di farlo», risposi. Si è bruciata la lampadina. «E non ne ho altre».